Città che si svuotano e anziani più soli. In estate aumenta il rischio truffe e raggiri, un rischio che è difficile prevenire, dice il vicequestore di Verona, ma che va combattuto con la prudenza e collaborazione da parte di tutti, perché i truffatori, che studiano bene le loro vittime, si appostano fuori dalle banche, ostentano familiarità, si fingono conoscenti dei figli, sono persone difficilmente individuabili e purtroppo sempre in circolazione. Non vogliamo mettere paura agli anziani, ma rassicurarli. Come si devono comportare di fronte al pericolo delle truffe? Sì, no, mettere paura no, però purtroppo è un fenomeno che capita spesso in questi giorni d'estate, quando magari le persone anziane rimangono anche più sole perché i figli sono andati via, non ci sono i nipoti, bisogna che facciano il 113, anche il 112, che chiamino, chiedano di fronte a una persona che ti dice che deve controllare il gas, piuttosto che l'acqua, piuttosto che verificare se all'interno c'è stata qualche furto, qualche fuga di gas, se ecco, telefonare al 113 e non aprire la porta, perché purtroppo ci si trova di fronte a persone scaltre, a persone anche vestite bene, che si presentano bene e che quindi possono ovviamente generare un po' la confusione della persona anziana. La Polizia di Stato, sempre all'opera per dare sicurezza con vigilanza dedicata e poliziotti in borghese in giro per la città, raccomanda in caso di dubbio di chiamare sempre il 112 o 113, non aprire la porta per nessun motivo a persone che dicono di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità, vigili o agenti, infine non esitare a chiedere aiuto in caso di dubbio o necessità, la prudenza non è mai troppa. Diciamo sempre che i cittadini per noi sono altri occhi, altre orecchie, in questo caso ancora di più, perché se qualcuno scappa di notte è probabilmente un ladro, la volante li insegue, in questo caso sono purtroppo reati che accadono la mattina in orari assolutamente normali, di persone che non danno nell'occhio. L'aiuto invece di un vicino di casa, un dirimpettaio che comunque conosce la signora anziana e vede queste cose sospette, l'aiuto che c'è è dato dalle banche quando vedono delle persone anziane che fanno dei strani prelievi incontanti di un certo tipo, l'aiuto di chiunque per noi può essere fondamentale, se non per catturare i truffatori o almeno per scongiurare la truffa.